Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In FIPILI coda tra la Stassigna Scandici in direzione Firenze per viabilità esterna che non riceve. Tra Calenzano e il BV A1 variante in A1 in direzione Bologna ci sono coda tratti per traffico intenso. In A11 coda Firenze Peretola in direzione Firenze per viabilità esterna congestionata. Segnalato traffico rallentato tra Pistoia e Firenze Nord. A causa di smottamenti e frane sono chiuse le seguenti statali. La 2 Cassia a San Quirico d'Orcia, la 12 della Betone e del Brennero a Borgo a Mozzano e la 62 della Cisa nel comune di Aulla e Pontremoli Massa Carrara. Si ricorda che per i trasporti domani mattina è previsto uno sciopero di 4 ore. Per i treni ci possono essere disagi anche prima e dopo la fascia della protesta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!